Il Comune di Pescia sta provvedendo alla distribuzione di cedole librarie gratuite per chi frequenta le primarie ed è residente all'interno del territorio comunale senza limiti di reddito. Abbiamo pensato sia di agevolare le famiglie che quindi potranno avere le cedole librarie ancora prima dell'inizio della scuola e i ragazzi potranno molto probabilmente già da primo giorno di scuola avere tutti quanti i libri, sia gli esercizi commerciali che potranno così emettere fattura con netto anticipo rispetto agli scorsi anni. Le cedole compilate con i dati degli allunni vengono consegnate alle famiglie direttamente dal Comune nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 nei locali del Comune di Piazza Mazzini fino al 20 di agosto salvo proroghe. L'unica cosa che ci dispiace è che quest'anno non siamo riusciti a partire in tempo con il metodo della distribuzione online delle cedole. Sicuramente c'è questo piccolo disagio, cioè il ritiro della cedola in presenza, alla quale però il prossimo anno metteremo riparo potendo scaricare le cedole dal proprio profilo, dal sito del Comune. C'è stata molta affluenza da quando l'avete cominciato a distribuire? Ecco, sì, in realtà il primo giorno c'è stata molta affluenza. In parte ce l'aspettavamo, non ci aspettavamo che ci fosse un'affluenza così importante il primo giorno. In realtà nei giorni immediatamente successivi, anche oggi, c'è stata un'affluenza regolare, non ci sono stati grossi problemi. Il primo giorno sì, qualcuno ha dovuto attendere un po', però per il prossimo anno contiamo di aver risolto tutti questi piccoli problemi.